Il principio dei pesi e contrapesi è assolutamente fondamentale per chi sia garantito il necessario equilibrio al nostro sistema democratico e siano precluse derivi autoritarie. Caro Matteo, ispiri la tua azione alle concezioni sovraniste, ne abbiamo anche spesso parlato. Permettimi di richiamare il pensiero allora di un sovrano illuminato. Siamo lontano nel tempo, Federico II di Svevia. Quantunque la nostra maestà sia svincolata ad ogni legge, non si leva tuttavia essa al di sopra del giudizio della regione che è la madre del diritto. Non abbiamo bisogno di persone, di uomini con pieni poteri, ma di persone che abbiano cultura istituzionale e senso di responsabilità.